Torna la Notte Bianca di Città dei Bimbi Sì, un nuovo evento, questa volta vogliamo fare il sestetto dopo due anni, dopo aver fatto per la prima volta la Notte Bianca al CUS questa volta coinvolgiamo la penisola di San Cataldo, sono sei le location di cui cinque operative attive dalle 17 alle 20 mentre ininterrottamente il quartier generale della Notte Bianca di Bari dei Bimbi diventa il CUS con manifestazioni per tutta la famiglia, infatti ci teniamo a sottolineare che i nostri eventi si rivolgono a un target che comprende noi diciamo meno nove mesi, 99 anni, perché dai pancioni fino ai nonni tutti troveranno qualcosa da fare quindi vi aspettiamo sabato dalle 17 alle 24 al CUS e poi a Italy, poi al Faro di San Cataldo che viene aperto per la prima volta alla città sulla spiaggetta di San Cataldo, sul lungomare Starita e nel giardino condiviso, nel giardino aperto della Scuola Marconi La Notte Bianca non teme la concorrenza della Champions League? No, no, non teme anche se devo dire questa volta diciamo ci abbiamo pensato abbiamo pensato che non potevamo metterci contro i tifosi, contro i papatifosi quindi devo essere sincera, non ci piaceva molto mettere anche un maxischermo per la partita per la visione collettiva della partita alla finale di Champions League ma alla fine l'abbiamo fatto ma senza dare uno stop al nostro programma perché ci teniamo a sottolineare alle 21 da una parte del CUS che come sapete è molto ampio quindi nell'area pattinaggio ci sarà il maxischermo per la finale mentre dall'altra parte del CUS nell'area palco Città dei Bimbi ci saranno tante attività, musica, visione di film tanti animatori per intrattenere grandi e piccini